buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi parleremo di quest'audio mp3 dcs dal titolo caro veggenza cioè vedere lontano annullare lo spazio del tempo se tu hai voglia di vedere nel futuro di avere una visione nitida come se vivessi vedessi un film tridimensionale ed essere consapevole di ciò che vedi bene scaricati quest'audio mp3 dcs dal titolo caro veggenza super che trovi giù su ai lati segui l'istruzione molto facile alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro e poi ti meraviglierai di ciò che il tuo subcosciente potrà vedere potrà avere la facoltà della chiaro veggenza vuol vedere ciò che succede in futuro per ogni tuo desiderio per ogni tua tuo bisogno esigenza che può andare dalla salute al benessere alle relazioni ok funziona ragazzi centinaia di persone l'hanno sperimentato e senza neanche fare sessione online di ipnosi dcs hanno risolto questo loro desiderio inconscio di vedere lontano della chiaro veggenza perché il subconscio ha delle qualità delle toti sconosciute alla tua ragione alla tua logica ma va guidato va educato queste parole potentissime che sono intrise di un antico sapere che si fiora quasi un secolo e che provengono direttamente da los angeles baby hills da due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale con la b maiuscola dottoressa rinapronino il professor dottor miglior angel garai dove il sottoscritto ha messo un 30 40 per cento perché io da più di 12 anni mi ipnotizzo h24 anche adesso sono ipnotizzato ogni santo secondo di tutte le 24 ore e non lo dico per vantarmi ma per ispirarti ti porteranno a fare delle cose che il comune mortale non può fare perché ha dimenticato da anni a norum per non dire secoli il potere del proprio subcosciente il potere della propria mente per cui se tu vuoi andare oltre tutto naturale senza nessun effetto collaterale senza nessun effetto indesiderato perché le suggestioni dicesse ripeto ancora una volta sono uniche al mondo e l'ipnosi dicesse vera professionale con la b maiuscola nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacola neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale beh tu vedrai cose incredibili e rinunciare ad una colazione al giorno per provare questo potente audio mp3 dicesse non è nulla se rifletti ai vantaggi e ai introiti esistenziali che puoi avere per cui se vuoi essere un chiaro vigente qualcuno veramente che non è uguale al mondo anche se c'è già provato anche se sei un esperto o semi esperto sedicente esperto scaricati quest'audio mp3 dicesse sopra sotto e poi aspetto una tua bella video testimonianza in forma limpida oppure anonima anche scritta perché no se ti vergogni ok fammi tutte le domande del caso visto il mio sito internet www.ipnologi associati puntocom la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti su questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e faccia il condividi con amici e parenti perché può essere quel quid con la molla che ti può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicesse il dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mia amica mia alla prossima ciao